Buongiorno a tutti, come sempre ben sintonizzati sulle frequenze di Punto Radio. Venerdì, come tutti i venerdì, siamo qua con i volontari della protezione civile. Oggi purtroppo è l'ultima puntata, ma l'ultima puntata del primo ciclo perché poi ne faremo delle altre. Oggi sono con Egno Lambertini, ciao Egno, che è segretario dell'associazione Corpo Operatori Emergenze Radio, voi siete a Budrio. Esatto. Perfetto. E poi invece ho Zanardi Doriano, ciao Zanardi, ti chiedo di stare più vicino, ok? Ecco, buongiorno, ciao. Lui è vicepresidente dell'associazione Pro Natura Bologna, cioè nell'ambito dell'ambiente. Dico bene? Esatto. Perfetto. Voi non so come mai siete stati scelti per ultime, ma come si dice, beati gli ultimi, no? Se i primi sono onesti. Come dicevamo prima, poi la gente si ricorda più degli ultimi che non dei primi, è vero? Vabbè, adesso a parte le battute che insomma cerco sempre di creare così un'atmosfera amichevole per mettere un po' a vostro agio la situazione perché qualcuno è preoccupato, la televisione, la radio, ma insomma è come vi ho detto è una chiacchierata che stiamo facendo fra amici per presentare un po' tutte le associazioni che compongono i volontari della protezione civile. Allora, da chi vogliamo cominciare? Da Ennio? Va bene. Allora, Ennio, ormai ho imparato, voi non siete dei radioamatori, voi non siete dei CQCQ, Roger, niente di niente, perché oltre a te sono già venuti altri. E ti chiedo innanzitutto di dove siete? Noi siamo di Budrio, l'associazione diciamo è radicata sul territorio del comune di Budrio, nasce dell'87 come un gruppo di ragazzi appassionati di CB appunto e subito dopo hanno allestito una sala operativa radio per dare un senso civico anche all'attività. Mi dicevi prima di andare in onda che voi siete nati come col baracchino, insomma come si dice, dico bene? Sì, certo, tutti i ragazzi avevano questo baracchino in macchina. C'è stato un periodo negli anni 70-80 che andava molto di moda verlo. Allora questa associazione appunto si è data uno statuto, insomma si è formata per dare un aiuto alla comunità sostanzialmente. Ed è lì che è nata l'idea di associarsi? Dopo nel tempo, allora inizialmente si era una collaborazione con le istituzioni, nel senso che non è come adesso che ci sono i cellulari, i smartphone e quant'altro che riprendono ed è immediato. Una volta non c'erano neanche i telefonini, quindi avere una sala operativa radio dove il territorio era monitorato da chi aveva questo CV davano le informazioni di un incidente, di un incendio, di qualsiasi cosa che fosse degno di notte. Comunque nonostante ci siano i cellulari siete ancora molto utili perché ricordo sempre il terremoto che c'è stato due anni fa, tre ormai, qua, quando nella seconda scossa non funzionava un cellulare. E lì è stato importante, fondamentale secondo me il vostro operato. Sicuramente ha portato un modo nuovo di pensare sul territorio, perché le istituzioni dopo venivano avvisate di questi eventi casuali sul territorio. E pian piano poi, come tutte le altre associazioni, ci siamo associati alla protezione civile, siamo iscritti alla consulta di protezione civile e sul territorio facciamo attività di protezione civile quando occorre o se no siamo radicati sul territorio per altre attività. Bene, intanto ci ringraziano per questa serie di programmi che abbiamo fatto con la protezione civile. È stata una bella esperienza, ringraziamo Angelo per questo messaggio. Allora veniamo a Doriano, intanto Doriano voi siete a Bologna, siete... Esatto, noi siamo a Bologna, siamo a Villa Tamba, via della Serra del Pescarola. Veniamo dalla vecchia Sea che operava a Bologna già negli anni Ottanta, poi c'è stata cambiata la definizione in pronatura. Siamo affiliati a Pronatura Nazionale che è una delle tre associazioni riconosciute anche a livello europeo insieme alla LIPU e al WWF. I nostri compiti principali sono la tutela ambientale. Siamo iscritti anche noi alla consulta come protezione civile. Forniamo tutti i servizi che ci vengono richiesti anche con corsi di aggiornamento e di professionalità per gli operatori, macchine, carrelli e quant'altro. e siamo operativi a Bologna, nel comune di Zola Predosa, Budrio e il comune di Porto Maggiore con l'estensione dei nostri decreti nella provincia di Ferrara. Senti una cosa, quanti siete voi qui nell'associazione Pronatura Bologna? Qui in Pronatura Bologna siamo in 72 iscritti. Ah però è un gruppo cospicuo? Sì, è un gruppo cospicuo di cui sono 52 guardie. Cosa vuol dire 52 guardie? Vuol dire guardie giurate particolari. Cioè nel campo dell'ambiente abbiamo la facoltà di essere considerati come pubblici ufficiali. Perciò con tutti i diritti, tutti i doveri, così lo dice Ansono. Voi potete fare anche le multe insomma? Sì, possiamo anche le varie sanzioni. Bene, e mi avete detto che 52 sono guardie e gli altri sono invece aspiranti. Adesso abbiamo intenzione di iniziare dei corsi di formazione. Infatti ne stiamo già facendo uno in questi giorni con i Ranger e la Bologna Zofila. Che abbiamo già avuto qua ospiti. Guardie di guardie eco-zofile. Cioè comporta la tutela degli animali. In più, con la parola eco, abbiamo la possibilità del controllo sul territorio, dell'ambiente dove vivono gli animali, con tutto quanto ne consegue. Cioè discariche abusive, abbandoni di rifiuti, coltivazione dei tartufi. E tutto quello che riguarda nell'ambiente abbiamo la facoltà di poter intervenire. Senti Doriano, voi quando andate in giro, perché mi dicevi che andate in giro, fate questi controlli, vi si riconosce? Avete un qualcosa tipo la tutina gialla, come quando ci sono le manifestazioni? Oppure girate così normalmente per dare un controllo? Poi se ci sono dei problemi li segnalate? No, noi abbiamo una divisa che è stata approvata dal Ministero degli Interni a Roma nel 98, con la comunica da parte della Questura di Bologna nel 2005, con colori distintivi e fregi autorizzati. Pertanto quando operiamo come guardie ambientali, noi abbiamo una divisa benissimo, riconoscibilissima. E invece quando facciamo attività di volontariato di protezione civile, la classica divisa è gialla e blu. Ci scrivono che gli animali non c'entrano, sono i proprietari che andrebbero puniti, sono pienamente d'accordo. Questo è un argomento che mi interessa, voi per dire se vedete qualcuno che fa sporcare il proprio cane e non raccoglie, gli dite qualcosa? Perché qui veramente c'è... Siamo obbligati. Siete obbligati. Siamo obbligati a dire qualche cosa, non possiamo fare finta di non... specialmente se siamo in divisa. Perciò tenere i cani, specialmente qui al guinzaglio... Tenere i cani al guinzaglio, raccogliere gli escrementi... Perché io noto che ce n'è sempre meno di persone che fanno... Addirittura dove abito io, c'è un bellissimo parco, arrivano anche da fuori, mollano il cane e sicuramente questi non è che poi vanno a raccogliere, perché non mollano... Purtroppo questo è un malcostume che dipende, come diceva lei giustamente, come dicevi tu giustamente, dal proprietario. Esatto. Il proprietario che non ha senso civico, perché il parco che lui sta utilizzando in quel momento... È di tutti? È di tutti, non è solo il suo. Esatto. Se poi a casa sua vuole fare queste cose, è liberissimo. Quella è proprietà privata. E però sai, succede sempre che a casa tutti chiudono bene la porta, poi quando vanno a casa degli altri, che diciamo c'è di che hanno la pietra a casa... Vabbè, torniamo a Ennio. Ennio, allora, voi siete a Budrio? A Mezzolara. A Mezzolara. Se vuol dire dove siete, che se c'è qualcuno... Ormai abbiamo detto che a Mezzolara vi conoscono tutti, però... Anche a Budrio. Se c'è qualcuno, visto che ci sono dei nuovi insediamenti, qualcuno di nuovo c'è... Dove siete esattamente? Siamo in via Cavalle 62, a Mezzolara. È una vecchia centrale del metano dismessa da anni. Abbiamo questa... E quando vi ritrovate? Noi ci ritroviamo il mercoledì sera, dalle 8 e 3 quarti, 8 e mezza in poi, fino alle 11. Perciò, chiunque può venire? Certo. Il sabato mattina, dalle 8 a mezzogiorno, lì c'è sempre qualcuno che fa manutenzione ai mezzi, manutenzione alle apparecchietture. A proposito di mezzi, prima mi dicevi che, insomma, come tutte le associazioni, i mezzi sono un po' di fortuna, donati. Come siete messi voi con... Noi abbiamo una dotazione di mezzi che sono la risulta di donazioni, comodati d'uso per quello che riguarda un fuoristrada che ci ha dato il Comune, diciamo, altri mezzi che abbiamo acquistato a dei prezzi, diciamo, contenuti per la motivazione che ti dicevo prima e che utilizziamo sempre per... sono stati, diciamo, adeguati all'uso che ne facciamo, quindi per l'emergenza... Quanti siete voi? Una trentina. Ah, anche voi, insomma. Sì, insomma... Senti, il Comune vi dà un qualcosa, un contributo? Noi operiamo nell'ambito comunale, abbiamo, diciamo così, una collaborazione con il Comune che ci chiama nei momenti in cui è necessario fare una collaborazione di viabilità con la Polizia Municipale. Certo, certo, ma io intendevo un'altra cosa, tipo, la sede dove siete voi di chi è del Comune? Sì, del Comune. Che ve la dà in uso, cioè, voglio dire, vi dà un qualche contributo annuale per quello che fate? Sì, sì, per le spese vive che teniamo. Ecco, no, insomma, almeno questo. Una cosa che mi è piaciuta, che mi dicevi, che purtroppo nella città Doriano capita poco perché ormai non sappiamo neanche chi ci abita di fianco. Esatto. È vero? Mi dicevo, Doriano, che invece, insomma, nei paesi, insomma, è ancora un paesino piccolo, insomma, non è grandissimo, è ancora, diciamo, una proposta. Però quando c'è dei problemi, vengono personalmente, eh, mi racconti questa cosa che è bella questa cosa. Diciamo che la nostra associazione, così come tutte le associazioni che hanno radicato sul territorio l'attività, hanno un contatto diretto col pubblico, con la cittadinanza, per dire, no? Perché ci riconoscono tutti, sia che abbiamo, come dicevi tu, la tuta gialla, sia che siamo in Borghese. Sì, ormai, ci riconoscono tutti. Quindi, molto spesso, siccome noi facciamo salvaguardi del territorio, facciamo ambiente anche noi, siamo in giro per verificare delle cose. Tutti i giorni fate questa cosa, c'è qualcuno? Sì, abbastanza, spesso. Spessa cosa anche voi? Perché? Sì. Adesso arrivo anche da te, che ti voglio chiedere una cosa. Dal momento che io vado per dire, non so, da Budri a Dugliolo, anche se non sono in servizio e vedo qualcosa che non quadra, la segnalazione, mi fermo a vedere, anche se non sono in servizio. Quindi è un minoraggio quotidiano, diciamo così. La cosa bella è che il cittadino, riconoscendoci anche quando non siamo in servizio, ci approccia per denunciare situazioni che, viceversa, andrebbero perse. Perché non si prende la briga di andare magari all'urpo, dai carabinieri o dai vigili. Perché purtroppo la società che abbiamo oggi è questa. Quindi diventa, è una cosa bella perché questo radicamento sul territorio fa sì che la comunità abbia di nuovo un senso civico rispetto a situazioni che invece non avrebbe. Il bello dei paesi è questo, mentre invece nella città è più facile prendere degli insulti che... Sì, specialmente quando si va a dire alle persone di tenere i cani nel guanzaglio e non avere certi comportamenti, ci sta. Guarda, discarica in via Zanardi piena di materassi. Perciò quando sei in via Zanardi, direzione Trebbo, perciò vedi, già è arrivata una segnalazione che è la sua. Ma la conosco perché quando vado a casa, io abito a che stai e passo da lì, perché poi non so perché, ma si identificano dei luoghi dove tutti vanno e buttano. Buttano, sì, è classico. Ma in questo caso cosa fate? In questo caso se prendiamo la persona nell'atto di lasciare una cosa, facciamo i verbali. Se non vediamo nessuno, facciamo la segnalazione al comune. Senti una cosa, Enel, adesso ti faccio una provocazione. E se io ti dico, ma chi sei? Cosa vuoi da me? Allora a questo punto se tu mi chiedi chi sei, io non faccio altro, prima te lo dico verbalmente. Perciò hai un tesserino che ti autorizza, dico bene? Esatto. No, ma se non importa, per chi ci guarda in televisione. Ah però, Gianni, vuoi fare un'inquadratura che lo facciamo vedere? Ecco qua, c'è vigilanza ambientale. E' lasciato dalla Prefettura di Bologna, pubblico ufficiale, pertanto... Pertanto a questo punto io devo stare attento perché se ti dico anche solo un nomino, rischio... Beh sì, dato che è stato istituito nel 2009 l'offesa pubblico ufficiale, potresti incorrere anche in questa sanzione. Bene, la prima parte è finita, torniamo dopo con Ennio e Doriano, vi lascio per un attimo di consigli. Oggi tornati per la seconda parte in compagnia di volontari della protezione civile, oggi abbiamo Ennio che è segretario dell'associazione Corpo Operatori Emergenze Radio di Budino, ma poi veramente sono a mezzo l'ara, e abbiamo anche Doriano che è vicepresidente dell'associazione Pro Natura Bologna, quelli che si occupano dell'ambito ambiente. Vabbè, stanno arrivando, anche se non ho detto il numero, che è 342-301-989 per i vostri messaggi. Andiamo un po' a decifrare questo messaggio che abbiamo cercato così di interpretare. Dice, penso che l'educazione debba essere in entrambi i fronti, sia cani o non. Venite al Navile, chili di contenitori di alluminio buttati nel Navile. Per cui, Doriano, cosa possiamo dire? Allora, per cui, non capisco il senso, per quanto riguarda l'educazione padroni e cani, è vero, ci vuole educazione. Naturalmente, anche noi, guardie, dobbiamo avere un approccio con la cittadinanza il più possibile educato. Non siamo sceriffi, siamo persone normali, come siete tutti voi, con una delega in più. Quella di esercitare un controllo e, quantomeno, iniziare con una prevenzione di educazione, sensibilizzazione della cittadinanza, che certi comportamenti non si devono tenere, specialmente in un ambiente che serve a tutti. Che è pubblico. È pubblico. Non siamo i padroni di questo ambiente. E dobbiamo pensare di lasciare questo ambiente pulito perché altri possono usufruirlo. Poi, per quanto riguarda la discarica che mi diceva il signore dei contenitori di alluminio nel Navile, benissimo, signori, ognuno di voi può fare qualche cosa. Quando vedete qualcuno buttare del rusco o buttare qualsiasi altra cosa, avete la possibilità, come privati cittadini, di fare la segnalazione ai vigili urbani. Questi devono venire a vedere e, quantomeno, fare degli appostamenti, o loro, o noi, per capire e segnalare la persona. Una volta che si vede la persona, ci si fa il verbale e tutto finisce lì. Però, anche voi, noi non possiamo essere, noi, le GEV e i ranger, che facciamo queste attività, non possiamo essere in tutti i punti della città. Sempre presente. Sempre presente. Come possono segnalarvi? Perché i ranger, per esempio, hanno detto che sul loro sito c'è una parte proprio dedicata dove si fanno queste segnalazioni. Avete anche voi o sono sempre i ranger che... No, sia noi che i ranger che i GEV hanno un sito internet. Possiamo dirlo così? Esatto. Quello per quanto riguarda Pronatura è contatti, chiocciola, pronaturabologna.org. Questa è la mail. Questa è la mail. Il telefono, perché non me lo ricordo, scusatemi. Ma lo diciamo dopo, intanto, non è un problema. Alla fine ti lascio tutto il tempo per... Ecco, se ce l'hai già lo puoi... Il telefono è qua è 389-107-1391. Perciò, telefonando a questo numero... È attivo 24 ore al giorno. Potete fare tutte... Possiamo fare le verifiche e sopralluoghi e fare... Senti, Doriano, questa è una domanda che non ho mai fatto, che mi è venuta in mente adesso. Le multe che voi fate, a chi vanno i soldi? Allora, nel comune vanno al comune di appartenenza. Bologna, Zola Predosa, Porto Maggiore e Imola, dove abbiamo le sedi distaccate. Oppure ci sono delle infrazioni che vanno mandate direttamente alla provincia. Ah, ok, perfetto. Senti, un'altra cosa, voi abbiamo detto che siete lì a Villa Tamba, i giorni in cui vi trovate, in cui qualcuno può venire per conoscervi meglio, per vedere se gli piace questa cosa e far parte dell'associazione? Certo, la segreteria di Villa Tamba è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 12. La vostra segreteria? La vostra segreteria. Ok. E il giovedì sera dalle 21 alle 23. E siete lì? E siamo presenti in sede. Perfetto, perciò se qualcuno ha voglia, vuole vedere come funziona, può venire. Bene, ricordiamo comunque che Villa Tamba è sempre aperta dalla mattina alla sera, trovate delle ragazze che vi accolgono e poi vi indirizzano all'ufficio. All'ufficio si cerca. Bene, dopo ti volevo chiedere, perché mi hai detto, ho parlato di funghi, dopo ti chiedono di funghi. Adesso, scusatemi, torno un attimo da Egno, perché mi dicevi Egno che anche voi fate la tutela ambientale, no? Certamente. Ma voi uscite così secondo un vostro progetto o è il comune che vi assegna delle... come funziona? Allora, noi abbiamo una convenzione, se si può dire, con un ente di bonifica che è sul territorio, che per nome e per conto suo verifichiamo tutta la rete idraulica del territorio. I fossi, tutte queste cose. I fossi di competenza di questa ente. e attraverso questo tipo di monitoraggio, noi rileviamo per dire tutti i siti, che ci sono tutti manufatti, ponti, non ponti, chiavi, che con... rileviamo le coordinate, le trasmettiamo a questo ente che fa una mappatura perfetta del suo capitale che ha sul territorio, diciamo. Facendo questo, noi rileviamo in tutta la parte del comune tutto quello che non va sostanzialmente. E poi, oltre a questo, quando siamo in giro, proprio come mission, se si può dire... Quando girate anche voi siete riconoscibili? Certo, quando noi giriamo abbiamo sempre dei mezzi sociali, quelli che dicevamo prima, e quindi siamo riconoscibili. Verifichiamo discariche, come abbiamo detto prima, verifichiamo versamenti impropri sui fossi... Voi quando vedete queste cose, voi non potete, vero, intervenire, voi fate segnalazioni, dopodiché arriva l'era per dire... Se noi vediamo ovviamente in quel momento che qualcuno sta scaricando un camion di Ethernet per la strada, certo, gli si chiede perché, se mammi mummo... Questo vi dice non sono affari tuoi, una fotografia, una targa... Anche basta la targa, prendiamo giù il numero di targa, la segnaliamo alla Polizia Municipale, che poi i provvedimenti... Sì, 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 no, questo è per far capire che loro possono intervenire personalmente... No, no, noi non abbiamo nessun mandato, non possiamo far verbali, non possiamo fare molti, non possiamo fare... Voi fate segnalazioni che sono importanti, perché... Ci sono segnalazioni, perché come dicevamo prima, la segnalazione che avviene dal cittadino direttamente, perché magari l'ha visto lui e ci dà lui stesso la targa di chi ha fatto questa cosa qui, noi la comunichiamo, gli organi preposti per questa attività, certo, e sono loro che prenderanno i provvedimenti adeguati per l'infrazione se c'è stata, ecco, perché magari non c'è neanche infrazione. Però la segnalazione noi la facciamo spesso e volentieri, proprio per dare questa... Per esempio, il fatto qua di Via Zanardi con la discarica dei materassi, lì voi fate la segnalazione, dopodiché chi interviene? L'ERA, dico bene, o chi... Di solito è l'ERA che interviene, perché poi il Comune dà mandato all'ERA che passa con il camion a recuperare questo materiale. Poi dipende, poi, se il Comune ha convenzioni con altri per la specificità del prodotto... Perciò, sì, mandano comunque un qualcuno preposto per queste cose. Vale anche per noi, in questo caso, cioè, vedere queste agglomerate di... Perché anche da voi, nonostante il paesino sia piccolo, qualcuno che viene da fuori e butta... Sì, quando una volta all'anno si fa Puliti il Mondo, che è quell'iniziativa dove tutti vanno a raccogliere le cose così, si raccolgono camion di rifiuti, dalla televisione al frigo, nel fosso, perché viene più comodo, ovviamente, a buttarlo nel fosso. Sì, perché quando uno viaggia è normale buttare, mentre si viaggia, un televisore da finestrino, no? Certo, il fatto è che non lo mettono sulla statale o sulla provinciale, ma lo vanno a imbucare nei posti più nascosti della viabilità, quindi... Ebbè, è normale, certo. Non è così semplice. C'è una via che devo fare una truffa, cerco di farla. Infatti, la collaborazione proprio con i cittadini che ci segnalano questi abusi è fondamentale per noi, ecco. Certo, certo, perché poi basta che uno butti un qualcosa, la gente vi dice, allora si può. Certo, gli accumuli vengono proprio per quello, perché visto il primo televisore, dopo tutti gli altri lo mettono a fianco. Va bene, Doriano, mi parlavi, prima ho sentito parlare di funghi, tartuffi, dico bene, ma cos'è che fate esattamente? Allora, i controlli sulla raccolta dei funghi, dei tartuffi, dei prodotti del sottobosco. Perciò voi vi occupate anche della collina, no? Sì, collina, bosco, perché ci sono le giornate di raccolta, il regolo con i tesserini, la quantità, il tipo di prodotto raccolto, le cose che noi controlliamo tranquillamente. Ma oltre a voi ci sono anche degli altri preposti a fare questo? Ci sono le GEF, i Ranger, poi c'è la Polizia Provinciale e basta. Oppure il Corpo Forestale dello Stato. Per capire un po' come vi muovete, cosa fate? Partite in un paio, in due o tre e poi vi fate queste passeggiate nei boschi? Sì. Praticamente? No. Prima avevamo in atto una convenzione con i comuni che momentaneamente sono sospese e avevamo l'appattugliamento di tre sere alla settimana dei parchi cittadini di Bologna, collina e città. Facevamo i nostri giri di ronda con le segnalazioni di dovere, di abbandono. Anche noi abbiamo trovato diverso Ethernet, cumuli di atterizi, rifacimenti di case abbandonate nelle zone parco, perché hanno una fantasia enorme per trovare i posti più imbucati. Beh, lo dicevamo prima. Qui hanno una fantasia molto... Non è che vanno via in dipendenza a buttare un sacchetto, che è facile, che mi becchino. In questo caso facciamo la segnalazione, recentiamo l'area, abbiamo delle caratteristiche, bantinelle, scusate, bianche e rosse, recentiamo l'area, facciamo la segnalazione ai vigili urbani, dopodiché il comune tramite l'era, con i suoi mezzi, con i suoi tempi, va a ricoperare questo materiale. Bene, perciò per quelli che vanno a funghi, no? Attenzione. Attenzione perché c'è qualcuno in giro che vi controlla, che tutto sia in regola. Mi sembra anche giusto. Ecco, una cosa fondamentale, che purtroppo succede ancora, non andate a funghi con le sportine di plastica. Usate il cestino. Per le spore, dico bene. Per le spore, esatto. Io non sono uno che va a funghi, ma... Perché c'è ancora qualcuno che ci va col secchetto di plastica della spesa. Non si può. Perché le spore non cadendo... Non cadendo non danno la possibilità di riprodurre i funghi. Eh, vabbè, questa è importante, è una cosa che... Adesso i tesserini per andare a funghi, mi dicevi che... Ogni tesserino è per una raccolta... Non è che c'è un tesserino che vale di più per raccogliere più chili, meno chili, meno... No, i tesserini sono da un mese, sei mesi o un anno. Ah, solo per quello. Poi la raccolta del porcino, del prattaiolo, è regolata all'interno di questa... Dell'area. Del regolamento regionale, provinciale in questo caso. Tanto se ne può raccogliere una quantità, che può essere tre chili, un chilo, quello che è, per quel tipo di fungo. Però il tesserino vale per tutti i funghi. Domanda sicuramente stupida e banale. Per i boschi privati, ognuno può fare quello che vuole? O anche lì ci sono... Nel bosco privato la persona può raccogliere il suo. Non può entrare altri, altri non possono entrare. No, 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 giustamente no. Però delle volte che non ci fossero delle leggi per la tutela del fungo, del... Voi controllate anche se qualcuno sega dalla legna, si porta via della legna negli alberi che non può, non... Questo non succede, però facciamo anche questo. È difficile che adesso ci sia qualcuno che vada a segare degli alberi per portarci l'albero a casa. No. Si faceva una volta. Però, specialmente sotto il periodo natalizio, ci può essere qualcuno sul paracco della Martina... È arrivato un messaggio, è molto bello, è di Pierino, che dice Svelate il segreto. Dove si trovano i tartuffi? Scherzo, complimenti per il vostro impegno. E beh, caro Pierino, loro lo sanno, ma mica te lo vengono a dire dove sono i funghi. E beh, per quanto riguarda i funghi, quest'anno speriamo che sia un'annata buona, ma... Non so, io non me ne intendo, perché dicono che deve piovere, deve... Sino adesso non è che ce ne sia un granché. Può essere, come dicevo prima, sul parco della Martina, che ci sono i pini, quelli piccolini per il rimboschimento, qualcuno che gli può piacere, o un pino, va su di sera, se lo porta via, se noi siamo lì, gli facciamo il regalo di Natale. Ennio, voi, quando il comune Budrio, oppure anche dove siete voi, Budrio, organizza feste, sagre, vi chiamano a dare una mano per il traffico? Sì, esatto, ovviamente noi siamo un'associazione politica, quindi non possiamo partecipare a attività che abbiano uno sfondo politico, diciamolo, lo chiarisco perché molti non sapendolo... Ah beh, però la festa del paese, della raviola, della diciamo io... Certo, ci chiamano, parecchi di noi hanno fatto un corso, quindi sono abilitati alla viabilità, alla gestione della viabilità, siamo di supporto alla Polizia Municipale quando ci sono questi tipi di manifestazioni, gare ciclistiche all'interno del comune, piuttosto che la fiera di Agribu, piuttosto che primaveranda... Che sono manifestazioni molto importanti, sono importanti, tanta gente ci viene... Tanta gente, gestiamo la viabilità sia pedonale che automobilistica e facciamo anche da uffici informazioni, se mi consenti... No, io ti consento tutto quello che vuoi, guarda... Nel senso che la gente si ferma vedendoci in divisa, ci chiede dov'è uno stand piuttosto che un altro... Sì, vedo per esempio... Un ristorante piuttosto che una pizzeria... Quando chiudono la strada, poi date indicazioni... Di dove andare per poter raggiungere una località, certo, certo... Dunque, il numero di cellulare che finisce con 706... A noi è arrivato solo Ecco, perciò se vuoi riscrivercelo, siamo già al secondo break... Gianni, ringrazio e saluto Gianni, sempre presente alla regia... Noi ci risentiamo fra pochi minuti qua con l'ultima parte in compagnia dell'Associazione Volontari della Protezione Civile. Ultima parte in compagnia dei nostri amici, Ennio e Doriano, che fanno parte dei volontari della Protezione Civile... Uno per l'Associazione Corpo Operatori Emergenze Radio del Comune di Budrio... E l'altro invece vice dell'Associazione Pro Natura Bologna. Allora, Doriano, qui sono arrivati un paio di messaggi... Abbiamo capito quello del 706... Ecco, ci è rimasto male perché voleva sapere... Ti chiedono se sono regolari per la raccolta gli zaini. Grazie. No, serve il cestino, perché il cestino di vimini permette all'esporo del fungo di cadere a terra. Qualunque altro contenitore a fondo ermetico non è ammesso. Perciò, come dicevamo qua in studio, neanche un foglio di nylon sotto perché non va bene. No, neanche quello. Un fondo ermetico non va bene, è fuori legge. Le cassettine di plastica che sono bucate, che hanno dei fori sotto, che permettono l'esporo di cadere a terra, vanno bene. Ma altri prodotti con fondo ermetico no. Va bene. Ennio, voi fate delle esercitazioni, qualcosa, in momenti fortunatamente tranquilli come questi, dove i fiumi sono tornati alla norma, tutto quanto. Che cosa fate voi? Noi partecipiamo innanzitutto a tutti i corsi del centro servizi per avere il personale più qualificato possibile. Poi facciamo corsi d'aggiornamento interno dove facciamo vedere il funzionamento delle pompe idrovole che abbiamo in dotazione. Spesso ci avvaliamo di bacini d'acqua per simulare il pescaggio dell'acqua, che vale sia per un caso, come abbiamo fatto per dire, a Bonporto, dove è tracimato il Secchia. Simuliamo l'installazione del palo della Torre Faro, perché nel momento in cui ne hai bisogno, bisogna che il personale sia in grado di gestire il materiale che ha in dotazione. E quindi facciamo queste simulazioni e spesso e volentieri le facciamo assieme ad altri comuni adiacenti che hanno le stesse nostre caratteristiche come gruppi di volontari. E poi partecipiamo sempre assieme a questo, noi siamo di terre e di pianura per intenderci come agglomerato di zona, di territori. E quest'inverno, questa primavera abbiamo avuto il nostro bel da fare con le piene del Reno e di Lidice che ci hanno impegnato a bastare. Senti, è vero che voi le attrezzature radio che avete le potete usare solo quando sono delle emergenze, non è che potete mettervi lì la sera a parlare come fanno i CB? No, ci sono delle regole ben precise, ci sono delle regole con delle frequenze che vanno rispettate per l'emergenza. Poi ci sono delle frequenze che sono in dotazione all'associazione con regolare richiesta, così che possono essere usate anche durante le manifestazioni che abbiamo detto prima, quelle di supporto alla Polizia Municipale, quando ci sono più postazioni di volontari, hanno bisogno di parlare fra di loro. Abbiamo delle licenze di comunicazione di servizio che possono essere usate per quelle manifestazioni, per non utilizzare telefoni cellulari. Voi Doriano, nei tempi così, tra virgolette, morti, che mi sembra da capire che non è che ne abbiate tanti perché siete sempre in giro, ma fate esercitazioni, insomma qualcosa? Sì, facciamo esercitazioni con la protezione civile, campi, abbiamo fatto Po 2007, Forno Rosso a San Lazaro di Savena, campi di preparazione, più anche noi in protezione civile facciamo i corsi di aggiornamento per l'utilizzo delle strutture. Molti di noi sono anche abilitati all'antincendio boschivo, che fra poco parte, previo corso. Abbiamo fatto un gemellaggio molto istruttivo, molto importante con le regioni Sardegna, Sicilia e Puglia. Uno scambio di volontari durante il periodo di massima allerta, abbiamo fatto un anno in Sardegna, tre anni in Sicilia, tre anni in Puglia. E dove vi trovate? Una volta da loro, una volta da voi? Come funziona? Siamo sempre andati noi giù nelle regioni, anche perché è così, loro hanno avuto la possibilità di vedere il sistema operativo dell'Emilia-Romagna, non è per fare pubblicità all'Emilia-Romagna, è considerato uno dei migliori assoluti in Italia, e ha dato la possibilità a queste regioni di imparare come funziona. Naturalmente insieme a noi c'erano anche i volontari del Trentino, i volontari del Friuli Venezia-Giulia. È stata una sinergia di tre regioni che hanno prestato servizio in queste regioni per il periodo della massima allerta per tre anni. Adesso c'è in ballo un nuovo gemellaggio, vediamo che cosa sarà fuori. Oltre ad essere istruttivo è anche simpatico, piacevole, andate in compagnia anche delle mogli, fidanzate e figli, oppure è una cosa che fate... No, le mogli fidanzate e i figli possono venire giù, però loro sono in albergo, non sono in caserma. No, ma è normale, ecco quello che voglio dire. Ah, vi trovate in una caserma? Sì, gli ultimi tre anni in Puglia eravamo alloggiati alla caserma Jaco Tenente, nel parco della Foresta Umbra. Ah, è arrivato un messaggio che dice basta solo una parola, grazie. Beh, questo è carino questa cosa. Senti Ennio, voi le strumentazioni che avete, come altri, sono dell'associazione o d'ognuno ha portato di suo? No, diciamo che... Io sto parlando delle apparecchiature, non le auto abbiamo già detto. No, certo, sono apparecchiature che abbiamo acquisito noi nel tempo e altre sono in comodato d'uso da parte del... Perché so che ho notato, la cosa che insomma vi accomuno un po' tutti, è che uno si presenta in un'associazione perché già o era un radiamatore o perché lavorava, allora aveva già qualcosa di suo come i sommozzatori che hanno la loro tuta. No, no, qui da noi non è così. Ah, non è così. Non è così, cioè chiunque può venire, si iscrive, fa un sei mesi di prove. Anche se non ha il baracchino avete tutto per dire. Io ad esempio non ce l'ho, cioè io sono entrato in protezione civile quando ho smesso di lavorare perché prima facevo un mestiere che non mi lasciava il tempo necessario per dedicarmi a queste attività perché andrebbero fatte con una certa serietà diciamo queste attività perché sono impegnative. Certo, certo. E poi diciamo che non dovrebbero essere ludiche ma dovrebbero essere più attinenti al sociale o quant'altro. Vogliamo ricordare che non è che dovete dare una disponibilità di 24 ore su 24, anche se avete solo un'oretta alla settimana e già è molto, cioè è importante. Ma l'importante è dare una disponibilità quando ci sono i servizi da fare, cioè c'è una calendarizzazione dei servizi, quindi quando ci sono questi eventi. Invece di andare al bar a giocare a briscola. Ma ci si può dare lo stesso perché generalmente i servizi sono fatti o di mattina della domenica, nella grande maggioranza, o di pomeriggio della domenica, quindi al bar ci si va di sera. Senti Ennio, siccome sono rimasti gli ultimi due minuti, voglio lasciarlo uno a te e uno a Doriano, voglio che tu ripeta dove sei, come contattarvi, numero di telefono, quindi se qualcuno vuole... Noi siamo a Mezzolara, in via Cavalle 62, siamo presenti il mercoledì sera dalle 8 e mezza a 9 fino alle 11 generalmente, il sabato mattina, dal 8 a mezzogiorno c'è sempre qualcuno che fa manutenzione, che fa attività propedeutica all'efficienza delle macchine, diciamo, quindi ci può contattare tranquillamente lì. Avete un telefono, una mail, posso dare la mia mail, sono il segretario dell'associazione, quindi posso dare tranquillamente la mia mail, che è ennio.lambert.alice.it Bene, coinvolgete pure la popolazione per le manovre? No, direi, eh. La popolazione non viene coinvolta. Anzi, poi le manovre è impegnative. È impegnativo, comunque, no, ma forse questo è per il fatto quando ci sono delle catastrofe, il nostro compito invece è quello di regolarizzare, tenere tutti, perché se no il caos assoluto è finito. Allora, Doriano, hai più di un minuto, perciò sai quante cose che si dicono un minuto, per parlare della tua associazione, dove siete, come contattarvi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ripetiamo che noi siamo in via Selva della Pescherola 26, Pronatura Bologna. I giorni e gli orari sono i seguenti. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12, giovedì sera dalle 21 alle 23. Abbiamo allestito una pagina Facebook, Pronatura Bologna. L'e-mail per contattare è contatti-pronaturabologna.org E abbiamo anche una pagina internet, Pronatura Bologna. Pertanto, l'ultima pagina, siamo un po' indietro con l'aggiornamento. Arriverà, arriverà. Stiamo lavorando per aggiornarla. Intanto, tutti questi sono i punti di contatto. Qualunque informazione vogliate, contattateci. Ci sono i numeri di telefono, sia sulla pagina Facebook che sulla pagina internet. Noi siamo disponibili. Più venite, meglio è. Bene, vi ricordo che tutte queste associazioni sono coordinate dal Centro Servizio Villa Tamba. Voglio ringraziare, perché è l'ultima puntata, questo è il momento dei saluti e della lacrimuccia, ma torneremo. Allora, volevo ringraziare uno per tutti, che è il presidente di Villa Tamba, che è l'Irene. E voglio ringraziare anche Lucilla, che si è sopportata quasi tutte le trasmissioni con la sua chiavetta, perché lei è poi quella che fa avanti e indietro per prendersi le registrazioni, che potete ascoltare andando sul sito di Villa Tamba. Ma dico bene? Sì. Bene, allora, io vi ringrazio, ringrazio adesso voi perché siete gli ucimi, ma tutti i volontari della protezione civile per quello che fate e sicuramente ci ritroveremo per un'altra serie di puntate. Grazie ancora, io vi lascio a Sotto Chi Tocca e oggi tocca a Dan Palmer.